Cari amici di radio ICN New York e Italia Medaus, non sono solo quando si parla di musica, non posso non parlare di loro. Dillo tu! Gli Hania! Intanto c'è una spiegazione, non è che questi ragazzi sono svegliati la mattina e hanno detto ci chiamiamo così. Diccelo tu mio caro. Allora, gli Hania significa spirito guerriero. Questo nome deriva da un'antica tribù chiamata Hopit e loro volevano diffondere semplicemente l'amore e il rispetto reciproco che è molto importante tra le popolazioni. Noi ci siamo così tanto appassionati di questo concetto che oggigiorno deve essere portato avanti in tutto e per tutto ragazzi, perché c'è tanta cattiveria e malvagità e noi dobbiamo portare avanti concetti come l'amore che è molto importante. Ed eccoci qua, noi siamo gli Hania. Allora, stasera cosa ci dovremmo, ci dobbiamo tutti noi aspettare, subire addirittura, no? Scherzo, scherzo. Dimmi, dimmi tu. Beh, noi siamo qui per... no, no, io sono la bassista. Sei la bassista? E la cantante? La singer? Non c'è la donna? Solo tu? Io faccio sia da uomo che da donna, capito? Faccio tutte e due. Ma questo è un festival della parità, no? Abbiamo avuto tantissime donne. Io voglio, anzi vorrei, una cantante negli Hania. Tu non ti puoi cimentare? Ma noi facciamo un po' tutto, insomma. Io faccio un po' di cori. Canti. Fa anche i cori, quindi, insomma, diciamo, cantante, quindi ce l'abbiamo, ecco. Io voglio presentare questi giovani da bellissime speranze che già hanno un grandissimo successo sia su YouTube che su tantissimi canali social. Ormai il mondo è social, quindi parto dalla mia sinistra. Presentazione, il tuo ruolo in questa band è dimmi qualche battuta. Ciao, Gabriele Bertozzi, io sono il chitarrista, purtroppo sostituto, in quanto Michele Grainski, che è il chitarrista degli Hania ufficiale, ha avuto una operazione chirurgica pochi giorni fa. Si è ripreso, sta meglio, è venuto a casa, è stato dimesso, quindi siamo molto felici per lui. Io sono il vecchio arrangiatore di Vito, nel primo progetto, il Spirito Guerriere, abbiamo scritto insieme qualche anno fa e lui mi ha ripescato e mi ha detto, vieni tu perché... E non hai potuto dirti no. Assolutamente no. Ok, poi passo a te. Eccomi, io invece sono dietro le pelli, quindi suono la batteria. Ecco, quindi, eccomi. Come ti chiami? Come ti chiami? Le persone da casa, non è che siamo Raul Bova, quindi purtroppo ci dobbiamo presentare. Io sono Luca Zamberti, batterista degli Hania, della band. E' figo suonare in questo gruppo? E' fighissimo, veramente figo, quindi ci divertiamo, è bello e siamo veramente carichi, emozionati. Ottimo, e ora passiamo all'unica donna di questa band. Eccoci, io mi chiamo Laura Candele e sono la bassista degli Hania. Eccoci. Ma bassista anche come tono di voce che sento? No, bassista, fammi sentire questa voce che mi hanno detto anche che fai parte del coro, no? Sì, 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 assolutamente, però sarà una sorpresa dopo, no? Per il live. Non ci vuoi svelare qualcosa stasera ai nostri ascoltatori? Beh, che siamo qui per fare il panico, insomma, no? Tutto qua. E come dice sempre Laura Candele, il panico, eh? Si vola. E ora, come si dice? Direte voi che voleremo, no? Quindi insomma, vediamo. Per ultimo, ma non per importanza, abbiamo il frontman di questo gruppo. E io voglio ricordare che è possibile guardare e godervi il nostro singolo Al Centro di un Amore sul canale della Giuseppa Publishing su YouTube. E potete trovarci scrivendo Hania Official Page su Facebook, Instagram e Twitter e anche TikTok. Ragazzi, voi dovete seguire questi ragazzi. Io sono innamorato pazzo di questi ragazzi. Scriverò un articolo sulla rivista di cui sono responsabile, americana, perché io proprio ci siamo conosciuti a Milano la prima volta. Danno una grinta e un'energia, quindi viva la musica, viva lo spettacolo, viva Sanremo e questa serata. Io volevo giusto ringraziare Coppola per averci permesso di indossare il suo marchio per questa settimana e volevo ringraziare quella che poi è stata la mia stilista, Gloria Emolo, che è stata bravissima. E la manager da lontano, nessuno la ringrazia? La ringrazio io? Vogliamo ringraziare la nostra manager, Nadia Patti, che è stata l'ideatrice del progetto insieme a Vito. E poi vogliamo ringraziare la nostra consulente d'immagine, Silvana Matarazzo, e per ultimo anche Marco Currieri, che ci ha fornito i gioielli. Noi abbiamo dei gioielli, ecco qui, che indicano, si vede, eccolo qua, nelle piume, tutti quanti, io ho questo ciondolo, lei ha l'orecchino. E vogliamo dire che è stata Silvana Matarazzo a pensare, ideare questi vestiti e poi il... I gioielli grazie a Marco Currieri. Esatto, che abbiamo citato prima. Ma dopo tutti questi nomi e cognomi, ringraziare me, no, io non lo so. Abbiamo fatto una... Si ci doglie, come dire, la sospanza. Ah, era questa la sorpresa? Che comunque loro, secondo me, non sanno neanche il mio nome e cognome, quindi chi sono io? Chi sei tu? Ah, vedi che tutti noi dobbiamo presentare... Allora, guardate, è una settimana intensa, di duro lavoro, sacrificio, orari sballati, non mangiamo da una settimana, quindi adesso arriva lui e dice, chi sono io? Ma dato che io non sono né Raul Bova, né... Siamo quello che mangiamo, visto che noi non stiamo mangiando quasi niente, non possiamo saperlo. Quindi, dopo questa pillola di saggezza, dal vostro Cesare Deserto, Radio ACN New York, Italia Medhouse e Daiania, è tutto quasi. Poi li vedremo in diretta anche sulla pagina Facebook Premium Meeting del Mare. Mi raccomando, scassate tutto. Rock and roll! Per noi siete al centro di un amore! Grazie a tutti!